salve mi sentite la bellezza non ha causa esiste inseguila e sparisce non inseguirla e rimane sai afferrare le crespe del prato quando il vento vi avvolge le sue dita il dio provvederà perché non ti riesca le poesie di emily dickinson ci sono pervenute ordinate e numerate da lei stessa in ben 1775 frammenti e sono state pubblicate soltanto dopo la sua morte questa poesia che vi ho appena letto per introdurla rappresenta bene il suo un bene il suo universo perché rappresenta la minuziosa e rispettosa osservazione del mondo questo senso del sacro del tutto naturale che ha veramente molto poco di o nulla di metafisico e di trascendentale il soprannaturale è soltanto il naturale rivelato questo scriveva emily dickinson in una delle sue innumerevoli lettere destinate ai molti a cui scrisse durante la sua vita sia quando era giovane sia quando decise di chiudersi nella sua stanza e di non uscire più da casa ma scriveva moltissime lettere come vedremo poi agli amici ai conoscenti ai parenti lettere e poesie che rivelano quel senso del limite da rispettare che emily dickinson evoca ad ogni suo verso è un concetto quello che lei richiama greco a conferma come dicevamo anche la volta scorsa del legame mitico che attraversa le epoche e che riguarda quella ibris quella tracotanza quella superbia quell'arbitrario superamento del limite di cui abbiamo appunto già parlato che era punito severamente dagli dèi nell'antica grecia e una delle divinità più determinate nel punire questo peccato di superbia di tracotanza era artemide che alcuni definirono la più crudele degli dèi quasi un sicario che scoccava le sue frecce i suoi dardi contro la superbia dei mortali come abbiamo già visto mettendo insomma questa dea come protettrice di tutte e quattro le scrittrici di cui stiamo parlando di cui parleremo il domino di artemide era soprattutto la natura e la natura è una delle maiuscole più presenti nella poesia di emily dickinson questa vestale bianca a guardia del mondo dalla sua stanza che a un certo punto della sua vita appunto si chiuse si chiuse in casa si chiuse in questa stanza e ne usciva solamente per passeggiare ogni tanto nel giardino nel giardino da sola nel giardino della della sua casa di amherst nel massachusetts negli stati uniti dove lei era nata il 10 dicembre del 1830 quando dall'altra parte del mondo nell'inghilterra rurale l'altra emily la bronte aveva soltanto aveva 12 anni se vi ricordate la volta scorsa quando abbiamo parlato di emily bronte abbiamo letto abbiamo letto una frase di silvio raffo che nell'introdurre un volume di poesie di emily bronte paragonava le due emily e usava come termine fierezza da amazzone e anche autonomia questa autonomia questa fierezza da amazzone che le unisce tutte e due in altre parole si può dire la folgorante autonomia di un sole e questa è una frase che usa marisa bulgeroni che è la curatrice del meridiano mondadori dedicato a emily bronte questa frase la usa per descrivere la sua opera poetica che è un'opera di cui ogni lettore e ogni critico che ci si avvicina ancora oggi deve cercare quel codice che gli permetta di individuarne l'origine di questa opera poetica e se lo trova questo codice un lettore che si avvicina alla dickinson ancora oggi si stupisce e vedremo perché emily dickinson sapeva che la sua poetica era diversissima da quella che andava per la maggiore nell'america dell'ottocento e inventò uno stile tutto suo uno stile da preveggente e lo fece influenzando peraltro tutta la poesia dei secoli a venire e lo fece chiusa nella sua stanza dove ordinò minuziosamente i suoi versi perché era certa della sua futura immortalità quindi furono la sua camera e anche il giardino di quella casa di amherst dove ogni tanto usciva quella stanza tutta per sé che poi la wolf dopo evocò in un volume che si intitola nello stesso modo quando la virginia wolf diceva una donna per essere scrittrice deve avere una stanza tutta per sé e una piccola rendita la dickinson ebbe la stanza tutta per sé e ci si chiuse dentro ne piace una fortezza e ebbe anche la sua piccola rendita perché viveva nella casa del padre per tutta la vita e del resto data la sua scelta claustrale probabilmente non aveva neanche bisogno di molto rimbomba ok allora i fascicoli di poesie che rilegò in quella stanza furono il luminoso segreto della vita di emili furono un tesoro che sbalordì la sorella la dinia quando dopo la morte della poetessa entrò nella stanza di emili e in un baule trovò tutta questa mole diversi gli amici e familiari sapevano che emily dickinson scriveva poesia ma non si immaginavano che avrebbero trovato una quantità così vasta di poesie diversi noi in italia abbiamo dovuto aspettare parecchio prima che versi di emily dickinson arrivassero fin qui e anche per lei come per l'altra emilia bronte fu il novecento a renderle giustizia fu il novecento a consacrarne l'immortalità e c'è una storia che si racconta a questo proposito era il 1945 quando un soldato americano conobbe a firenze una ragazza di nome margherita nella sua sacca questo soldato americano magari insieme a armi a proiettili non sappiamo però aveva anche un libro o forse solo delle pagine e in queste pagine c'erano alcuni versi l'unica cosa che lui si era portato dall'america in quel libro risuonavano i versi di emily dickinson che sarebbe diventata uno dei poeti più grandi di ogni tempo ma che allora era ancora sconosciuta in italia il soldato aveva prestato talmente ascolto a questi versi che volle farne dono alla ragazza a margherita e anche margherita sentì cantare ascoltò quel canto ascoltò questi versi tra le rovine di una guerra e si racconta fu quella la prima volta che emily dickinson arrivò in italia margherita era margherita guidacci che divenne a sua volta poetessa e ancora oggi la traduzione la sua traduzione delle poesie di emily dickinson uscita prima per garzanti in un'edizione che io ovvio chissà ritengo come loro e poi però molto bella anche questa in due volumi insieme alle lettere della dickinson sempre tutto curato da margherita guidacci edito da bonpiani la traduzione di margherita guidacci delle poesie della dickinson è un classico e a parer mio è ancora la migliore per chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta a emily dickinson e leggere i suoi versi allora la storia che vi ho appena raccontato non è detto che sia del tutto vera non è neanche detto che sia vera però è bella anche perché rappresenta esattamente emily dickinson e la sua dichiarazione di vita anche in mezzo alla guerra e alla morte emily dickinson non visse sempre chiusa nella sua stanza anzi da giovane la ragazza era piuttosto scavezza collo come raccontano le sue biografie tra cui questa che è molto bella scritta da barbara lanati si intitola vita di emily dickinson l'alfabeto dell'estasi ed edito da feltrinelli eppure di lei della dickinson è stato detto spesso è stato fatto spesso un ritratto forviante è stato detto di tutto quello di una specie di monaca laica impaurita dal contatto fisico e dal sesso quella di una donna nevrotica e malata di mente di una donna dal cuore spezzato da un uomo o da uomini più vecchi di lei o anche di una donna innamorata non corrisposta della cognata che fu sua grande amica e così via ma lo vedremo più tardi come mai sono uscite dove perché e come sono uscite tutte queste teorie tutte queste voci sulla dickinson tenendo presente che su una donna escono più facilmente tutte queste voci che su un uomo perché ci sono scrittori come bostoyevski come tanti altri magari nella vita non erano personcine proprio meravigliose però poi nessuno tutti se ne fregano nessuno dice nulla quando invece una donna fa le scelte più strane a si va a ricercare le cose più assurde come vedremo tra poco queste cose però non furono dette mentre lei era viva anzi ci furono persone che credevano in lei ed erano affascinate sia dalla sua persona che dai suoi versi come ad esempio la scrittrice progressista helen hunt jackson che era molto famosa a quei tempi e che la invitava ma in vano a pubblicare i suoi versi invece i posteri come sempre malati di psicologismo non l'hanno all'inizio non l'hanno capita molto bene eppure emily dickinson con i posteri non ci scherzava affatto da viva lei ha consentì a pubblicare solo sette poesie in forma anonima senza firmarle uscirono per lo più sul quotidiano di springfield ma l'ultima di queste poesie sempre su insistenza di elen hunt jackson uscì in un'antologia che si intitolava a maschera di un poeta questa antologia era curata da thomas niles che però modificò alcuni versi di questa poesia della dickinson per renderla il più possibile simile al gusto preponderante dell'ottocento di fine ottocento emily ne fu orrificata e da quel momento lei negò ogni ulteriore pubblicazione rifiutò ogni offerto di pubblicazione eppure lo sapeva molto bene qual era il valore della sua opera per questo la preparò con cura certosina numerandola per frammenti e la preparò proprio per i posteri cioè questa cura che pose nel trascrivere in fascicoli numerati tutta la sua opera è come se lei avesse detto bene adesso è pronta questa opera per un futuro che sia finalmente in grado di accoglierla e di raggiungerlo dico io a quell'altezza e i suoi versi poi leggendo le poesie della dickinson si capisce tutto i suoi versi quelli sulla fama quelli sulla gloria quelli sul successo dimostrano chiaramente che emily dickinson sapeva che per lei la fama se mai le fosse dovuta sarebbe arrivata solamente dopo morta emily dickinson ha scritto qualcuno scommise con l'eternità e fu una scommessa vinta questo lo si capisce a posteriori proprio dai versi che emily dickinson ha scritto per esempio poiché non so quando l'alba arriverà apro tutte le porte e ancora tutto quello che io so è un messaggio quotidiano dall'immortalità tutto quello che io vedo è il presente e il domani forse l'eternità e pur nell'incertezza la dickinson ha fatto proprio questo ha aperto tutte le porte e ha preso quell'eternità che il suo rigore caparbio e solitario le ha consentito di afferrare quell'irrigore solitario che la pone sotto la protezione divina di artemide perché è il senso del sacro che tutta la poesia di emily dickinson suggerisce ed è un senso del sacro che è sì acceso e vibrante anche ma che si può definire tranquillamente non solo laico ma anche pagano nel senso di non legato ad alcuna religione specifica tanto meno a quella monoteista e puritana che tutti frequentavano e professavano intorno a lei ad amherst in quel periodo la dickinson come scrive bianca tarozzi nella prefazione a una delle tantissime raccolte delle sue poesie questa si intitola la bambina cattiva fu certamente una ribelle anticalvinista contraria a una a una dottrina come quella che intorno a lei andava per la maggiore a cui a cui tutti si stavano convertendo che riservava la salvezza a pochi eletti e in lei sono frequenti le affermazioni antidogmatiche ad esempio lei scrisse chiaramente non ho il rispetto per le dottrine ma soprattutto osservate i gigli dei campi è l'unico comandamento a cui abbia mai obbedito la natura che il tradizionale dualismo bigotto vedeva dell'epoca vedeva come minaccia vedeva come nemica e che invece il secolarismo frutto progressista di oggi moderno contemporaneo vede come risorsa da sfruttare per emily era qualcosa da contemplare con una devozione sacrale come una unica dottrina che emily dickinson conobbe la fece tutta sua fu la fede nella parola come strumento di osservazione e di comprensione del cosmo e poi il suo segno della croce lei lo scrisse chiaro nel nome dell'ape della farfalla e della brezza amen emily iniziò a trascrivere i suoi fascicoli in fascicoli le sue poesie nel 1858 prima a differenza di quel ritratto che lo psicologismo posteriore ha fatto di lei fu una ragazza curiosa del mondo che la circondava fu una ragazza vivace con un umorismo tutto suo una ragazza che andava a scuola anche se non con frequenza regolare che si esercitava il pianoforte che curava il giardino e che scriveva lettere alle sue amiche e in queste lettere emily descriveva la piccola società di amherst e anche la sua vita familiare che appariva protetta e tranquilla e a proposito dei familiari emily fu molto legata al fratello austin che era il prediletto della famiglia un po come il fratello di emily bronte perché c'era anche l'altra volta no patrick branwell che era il prediletto della famiglia anche se poi i destini dei due fratelli furono posti tragico quello del fratello della bronte più luminoso quello di austin il fratello della dickinson e lei emily era legata moltissimo anche alla sorella la vigna a cui diceva senza di te sarebbe notte e anche la dickinson proprio come la bronte e come vedremo anche come la wolf e la mansfield fu un'importante figura di sorella non solo una sorellanza anche a distanza di secolo tra tutte queste scrittrici ma un'importante figura di sorella vera legami molto forti anche da un punto di vista familiare così come artemide era la sorella gemella di apollo e lo rimproverava per la sua esagerata commistione confidenza con i mortali emily chiamava austin fratello pegaso e quella che diventerà la moglie del fratello susan gilbert detta sue fu la maggior confidente dell'attività poetica di emily e anche la destinataria di un'amicizia molto forte molto intensa che però il matrimonio tra susan e austin poi complicò in quella rete di relazioni intense che emily tesseva fin da giovane e poi anche dopo anche se non usciva più di casa riusciva a tessere relazioni molto intense anche soltanto scrivendo scrivendo quelle lettere che poi ci sono arrivate sono state pubblicate vedremo quando tutte in questi volume ma la castità della mente perché di questo si parla la castità della mente di emily esigeva già fin da giovane esigeva una trasparenza una coerenza e una ricerca di assoluto che probabilmente non rendeva facilissimo tenere sempre teso un rapporto di amicizia che però dall'altra parte era senza dubbio un nutrimento molto forte per chi lo riceveva per cui era molto difficile farne a meno quindi l'intensità era la cifra del rapporto anche di amicizia con emily dickinson ed emily da parte sua definiva gli amici come abbia ruth che fu una sua amica del cuore della della gioventù della giovinezza oppure come siù o le cugine nord cross o i coniugi holland e poi samuel balls che fu un suo amico carissimo definiva questi amici il suo paradiso terrestre e in una lettera alla signora holland del 1856 scrisse se ogni tanto non fosse caduto qualcuno che io non ho più potuto più risvegliare non ci sarebbe stato bisogno di un altro paradiso oltre questo di quaggiù per quanto riguarda la sua vita familiare emily la descrive così in una lettera al critico letterario thomas hickinson del 1862 quando già aveva deciso di non uscire più dalla sua casa i miei compagni sono i monti e il tramonto e un cane grosso come me che mio padre mi ha comprato sono meglio delle persone perché capiscono ma non parlano il brusio dello stagno è migliore del mio pianoforte ho un fratello e una sorella mia madre non si cura dell'attività intellettuale e babbo è troppo occupato con i suoi incartamenti per badare a quello che noi facciamo mi compra molti libri ma mi dice di non leggerli perché teme mi confondano le idee in casa sono tutti religiosi fuorché me c'è un parallelo fra il padre di emily bronte e quello di emily dickinson se vi ricordate sono tutte e due uomini colti di un certo peso ma il padre di emily bronte leggeva i libri ai figli le leggeva insieme a loro discutevano di storia di filosofia di letteratura trattava quasi come il suoi pari se vi ricordate invece il padre di emily dickinson le regalava dei libri ma le diceva di non leggerli perché se non le avrebbero confuso la mente era un altro ambiente da quello rurale dell'inghilterra quello puritano dell'america di fine ottocento ma emily figuriamoci li leggeva tutti quei libri e lesse moltissimo finta giovane e fu anche una ragazza che finta giovane viaggiò fuori dalla sua città viaggiò a boston fu a springfield a washington a filadelfia frequentò il collegio di south atley dal quale ogni tanto scappava con le amiche e ci restò solamente un anno perché aveva nostalgia di casa quindi in qualche modo fu una ragazza ribelle però già si intravedevano alcuni tratti che poi svilupperà da donna e da poetessa come per esempio un temperamento dalla forte spiritualità il piacere della solitudine gli interrogativi sull'eternità sull'eterno ma anche la difficoltà a conformarsi ai canoni della società a cui apparteneva che era quella puritana del new england e e questo fatto come spesso accade alle menti più autonome alle menti più caste la allontanò dalle sue amiche dalle sue amicizie perché loro si convertivano alla chiesa puritana questa chiesa che divideva il mondo in salvati e dannati questo emily non lo poteva accettare non lo accettò mai e quindi non resistete a ogni tentativo di convincerla ad abbracciare questa fede come facevano tutte le sue amiche che piano piano si allontanarono da lei ma lei alla sua amica abbia rutt la sua amica del cuore e anche lei convertita al puritanesimo lei scrisse ad abbia rutt la costa è più sicura ma io amo lottare col mare e con una frase disse tutto ma durante questo periodo quindi prima di scegliere di isolarsi la Dickinson conobbe anche e frequentò i suoi primi mentori come ben newton che la spinsero a coltivare i suoi interessi letterari e l'amore per la poesia e poi conobbe anche i suoi primi amori come il uno dei quali il reverendo walsworth che conobbe a filadelfia nel 1855 fu destinatario di molte sue lettere e comunque leri anche se poi se ne andò insomma le rimase sempre nel cuore anche quando si chiuse in una stanza ci fu anche un amore più tardo che fu quello per il giudice lord un uomo che aveva gli anni di suo padre e a quel tempo emily era già isolata nella sua stanza ma perfino con il giudice lord fu accarizzata l'idea di un matrimonio poi estremamente complicato e scomparso all'orizzonte subito quasi subito come un sole al tramonto quindi la vita di emily anche prima di scegliere di chiudersi in casa era questa era una vita piena di cose ma era piena anche fin da giovane per tutto il suo corso anche di lutti di lutti importanti e improvvisi da giovane perse la sua amica sofia holland e questo fu il primo incontro di emily con la morte a cui ne seguirono molti altri la morte di ben newton uno dei suoi mentori dell'amico samuel balls del reverendo walsworth la morte improvvisa del padre a cui era molto legata e quella più lenta e dolorosa della madre e poi la morte di helen and jackson del giudice lord e soprattutto il lutto più devastante l'ultimo che subì la morte del piccolo gilbert il suo nipotino prediletto il figlio del fratello austin e di susan la cognata che fu anche grande amica di emily e figura importantissima nella sua vita fu un colpo durissimo emily sopravvisse al piccolo gilbert soltanto tre anni ma già da oltre vent'anni ed esattamente dal 1862 la dickinson aveva cominciato a vivere in totale isolamento e a vestirsi esclusivamente di bianco come una sacerdotessa nemmeno gli amici che lei definiva il suo tesoro terrestre che lei considerò il suo paradiso terrestre riuscirono più a incontrarla o a vederla il perché di questa scelta viene chiamato mistero però si può sforzi e sviscerare soltanto leggendo proprio le poesie di emily perché una cosa è certa non solo emily nel suo isolamento pressoché totale è riuscita a preservare completamente la sua integrità psichica non solo ma i suoi sensi appaiono perfino acuiti da questo isolamento come quando si fa la punta una freccia che sfida enorme è mai questa che sfida gigantesca com'è possibile chiudersi in una stanza senza vedere nessuno senza toccare nessuno senza alcun contatto sociale senza ambizioni di denaro di riconoscimento senza bisogno di approvazione senza pensare a farsi una vita cosiddetta normale matrimoni figli uscire amici come si può pensare a fare tutto questo per tantissimi anni fino alla morte e restare sane di mente e anzi scrivere versi tanto lucidi e tanto sereni questa è una sfida altissima lanciata come una freccia appuntita dalla Dickinson come è possibile amare di più la vita privandosene ed è per questo che su di lei è stato detto di tutto per sfuggire a questa freccia accumulata per trovare una spiegazione razionale e patologica a un atteggiamento che risulta incomprensibile perché ci costringe a giustificare le nostre vite affannate dalla ricerca di successo di denaro di approvazione di normalità di quello che volete quindi per sfuggire al confronto con questa sfida si sono cercate spiegazioni prima di tutto patologiche tirando in ballo l'agorafobia la nevrosi una donna malata di mente fragile eccetera eccetera e poi che è la cosa più divertente tirando in ballo spiegazioni romantico sentimentali appunto come accennavamo ad esempio che in fondo lei era innamorata della cognata Susan che le spezzò il cuore perché sposò il fratello o che l'amore per uomini più grandi di lei nascondeva un amore impossibile per il padre o ancora la passione non ricambiata per Kate Scott un'altra amica che dopo Susan fu destinataria di alcune lettere effettivamente molto intenso ma la tesi più accreditata fu quella secondo la quale la partenza per San Francisco del reverendo Wadsworth che era il suo grande amore spezzò la mente già fragile di Emily e lei si chiusa in casa. Insomma la di che sono stata spiata da tutti i lati come Artemide al bagno da Atteone però Artemide Atteone lo tramutò in un cervo e lo fece sbranare dai suoi stessi cani e allo stesso modo gli spioni dei posteri sono stati trafitti dalle frecce di Emily nessuno può dar credito alle loro teorie che si possono seppellire sotto un gigantesco chi se ne frega perché in fondo lo sappiamo che nessuna delusione amorosa può avere a che fare con una scelta tanto spirituale e tanto alta che invece ha a che fare con la castità della mente perché una scelta del genere non può nascere da un evento tanto esteriore fuori di noi come la partenza di un amato o l'abbandono di una persona o un amore non corrisposto ma una scelta del genere nasce da una profonda esigenza interiore un'esigenza di consapevolezza un'esigenza di concentrazione che magari può avere anche bisogno di una fiamma che accenda la miccia già pronta ma che forse sarebbe accaduto allo stesso come per un mistico no come per chi a un certo punto della sua vita diventa consapevole che il mondo lo si osserva da un altrove e il mondo Emily Dickinson lo viaggia e lo descrive in tutti i suoi aspetti in tutta la sua magnificenza gioiosa e dolorosa probabilmente in nessun altro o in pochissimi altri poeti riuscirete a trovare quella gioia di vivere che paradossalmente deriva da un apparente ritiro dalla vita eppure quanta vita ha osservato Emily Dickinson dalla sua stanza forse più di quanto noi ne possiamo osservare oggi che ci passa accanto senza attenzione in una vita intera vissuta fuori è gioia solitaria eppure eleva l'anima con stupendi richiami remoto sopra il vento il canto di un uccello delizia senza causa incessante ed invisibile un'essenza dei cieli questa è la sfida bruciante questa è l'immortalità l'essenza dei cieli è come se Emily avesse detto il mondo non è pronto per me ma io sono pronta per il mondo e me lo prendo tutto e così in questo modo si è presa tutto il suo tempo e ha lasciato le vite mortali a consumarsi in fretta e nella fretta e la familiarità che Emily Dickinson ha con la vita è la stessa familiarità che ha con la morte come se in lei si unissero la luce di Artemide dea delle vette e l'ombra di Ecate la potente signora dell'oscurità la dea degli spettri che era anche un'altra faccia di Artemide e che poteva muoversi tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti ora in Emily Dickinson si uniscono l'arcosa e tante e la squadra rigorosa l'angoscia per la morte per la perdita degli affetti più cari e il grande slancio di vita per le sorprese che il mondo riserva il cerchio della vita e della morte è uno è uno solo e forse noi non lo vediamo più ma Emily lo vedeva e lo ha descritto nei suoi versi sono morti per questo moriamo con maggior rassegnazione ma vissero per noi questo è certezza di immortalità e ancora in conclusione a un'altra poesia lucenti apparizioni con l'ala ci salutano come se fossimo noi i morti ed essi rimanessero ad attenderci portando essi per noi il lutto e infine in una lettera alla cognata su dopo la morte del piccolo Gilbert la disperazione col suo primo velo di lacrime non deve durare dopo molto tempo un'intimità col mistero prenderà il suo busto muovendosi nel buio come navi cariche di notte benché non vi sia una rotta sicura c'è l'immensità ci troviamo anche qui di fronte a una visione circolare che non viaggia su dualismi contrapposti ma unisce quello che sembra opposto in un'unicità salvifica per Emily la poesia era al tempo stesso catarsi e purificazione il dolore e la perdita lei ritraversa e ne fa un'esperienza totale e in questo modo trova il sollievo non nella fuga non nella distrazione e nemmeno nel lamento o nella disperazione ma trova il sollievo nell'inchiodare il dolore la pena sotto la lente di una coscienza lucida attraverso la parola scritta che diventa in questo modo suprema celebrazione della vita in uno dei rari incontri che lei ebbe con Thomas Higginson che era un mediocre e critico però era un politico progressista illuminato dell'epoca Emily gli disse trovo estasi nell'atto di vivere il semplice senso di vivere è gioia sufficiente Higginson non capì quello che Emily volesse dire tanto che le domandò dopo una frase del genere se non sentisse il bisogno di uscire se non sentisse il bisogno di muoversi da casa di avere un'occupazione ma lui politico attivo e distratto da mille cose lui che fu vicino ad Emily e fu destinatario di tantissime sue lettere forse le più importanti nonostante giudicasse negativamente le poesie di Emily Higginson non capì che in Emily il consenso luminoso alla vita passava si manifestava nell'estasi di quella solitudine perché questa solitudine le consentiva di concentrarsi su ogni aspetto dell'esistenza da quello minimo come un ape insetto che lei nomina spesso nelle sue poesie che amava moltissimo a quello massimo come un dio a cui a volte si rivolge in ogni caso la risposta di Emily Dickinson a Higginson che le aveva appunto detto ma non senti mai il bisogno di uscire di un'occupazione fu questa non mi è mai passato per la mente di concepire la possibilità di avere la più lontana ombra di un simile bisogno in tutto il tempo futuro certo Higginson probabilmente pensava a quanto fosse noiosa la vita passata sempre chiusa in una stanza a quanto le giornate fossero lunghe noiose interminabili e infatti in una casa in una stanza Emily Dickinson passò la maggior parte della sua vita leggendo scrivendo in totale silenzio e solitudine ma con la porta appena socchiusa quando c'erano visite al pian terreno perché stava a sentire le voci che arrivavano da sotto ma non consentiva a nessuno di salire in quella stanza entrava quasi esclusivamente la sorella alla linea e ogni tanto i bambini i suoi nipoti o i bambini dei vicini quando venivano in visita ma quello che a Higginson sfuggiva nonostante Emily glielo avesse detto è che quella stanza non fu una prigione in cui rinchiudersi e d'altra parte se avesse letto le poesie di Emily l'avrebbe saputo perché Emily lo dice è morbida questa mia prigione sono gentili le sue sbarre severe non un tiranno ma il re delle piume ha inventato questa quiete e poi la stanza fu una sorta di telescopio da cui scrutare attentamente l'esterno questo lo scrive Barbara Lanati nell'attretazione a un'altra raccolta di poesie della Dickinson che è sentito la sillabe di seta e la definizione di telescopio si adatta bene a molto di più di quella di microscopio perché perché proprio lo sguardo attento della Dickinson sulle piccole manifestazioni della natura come le api l'erba i fiori gli uccelli sono tutt'uno con l'osservazione dei fenomeni più vasti non solo dell'esistenza umana ma anche di quella divina e del cosmo intero e anche questo lei lo scrive il presagio è quell'ombra che si allunga sul prato indice di tramonti ad avvertire l'erba sbigottita che su lei presto scenderà la notte e ancora l'acqua è insegnata dalla sede la terra dagli oceani traversati la gioia dal dolore la pace dai racconti di battaglia l'amore da un'impronta di memoria gli uccelli dalla neve la Dickinson mette nei suoi versi tutti i protagonisti della vita che sono tanti e che la rendono per questo dramma più che interessante ma la Dickinson non li elenca in un monologo cioè non è lei che parla con loro che li elenca li fa parlare fra loro in un continuo scambio di messaggi si testimoniano l'un l'altro perché tutte le presenze della vita sono simultaneamente disponibili allo sguardo della Dickinson dal filo d'erba al più alto che rubino che è nei cieli scrisse giustamente la guidaccia e considerando che ogni sostantivo che sia l'erba l'ombra la pace l'amore eccetera emily scrive con la maiuscola è chiaro che in lei il microcosmo e il macrocosmo sono uniti non si differenziano ma fanno parte di un unico disegno che è divino umano e animale al tempo stesso in una parola è un unico naturale discorso mitico e così la figura di emily torna ad accostarsi a quella di artemide che fin da piccola sulle ginocchia del padre zeus elencò i suoi desideri rimanere vergine per sempre avere molti nomi possedere un arco e delle frecce portare la torcia e un chitone frangiato fino al ginocchio e disporre di tutte le montagne delle città ne poteva fare anche almeno ed emily dickinson fu chiamata la vergine di amherst i suoi molti nomi furono le poesie con tutte le maiuscole che usava per i sostantivi il suo arco e le sue frecce furono i fogli e le penne con cui scriveva e catalogava tutta la sua opera la torcia fu la lampada che le serviva per scrivere e il chitone i suoi vestiti bianchi mentre dal suo scrittoio osservava il mondo come dall'alto di una montagna era un poeta ecco chi fu un poeta chi distilla la sorpresa di un senso da significati ordinari ed estrae essenza infinita da specie familiari in fondo è questo il sapere che ha le sue radici peraltro nel mito perché il mito proprio questo fa rivela un senso altissimo a partire dalle cose più semplici e questo fanno anche i poeti e non è un caso che la poesia sia stata la prima forma letteraria espressa dal mito che il mito ha prodotto per emily questo sapere mitico è l'unico che si avvicina al più possibile al vero per lei altro non è dato e quindi la sua stanza diventa quella fortezza osservatorio da cui guardare e comprendere il mondo per restituircelo nella sua essenza infinita attraverso le specie più familiari come dice ancora la guidacci i caposaldi poetici della biche sono infinita vastità e reverente contemplazione per emily la natura l'amore la bellezza in tutte le sue forme anche la contemplazione della morte che lei chiamava la bianca impresa sono tutte aperture verso l'immortalità che la dickinson pensò in un modo filosofico per nulla trascendente per la dickinson l'eternità era come una pianta che cresce dal seme era come l'adulto che cresce dal bambino nello stesso modo l'immortale cresce dal mortale come se il mare stesso al mare fosse riva scrive in una delle sue poesie anche dal punto di vista formale ed emily dickinson fu una rivoluzionaria nelle sue poesie forma e contenuto hanno una corrispondenza perfetta a lei non importava molto della poesia che l'aveva preceduto e per nulla di quella a lei contemporanea le soluzioni stilistiche sue erano senza precedenti lei liberava la rima ma nello stesso tempo la teneva il gonzale quindi fu un'innovatrice alessandra cenni in un libro che si intitola cercando emily dickinson parla proprio di un'autentica rivoluzione del linguaggio un linguaggio che ridà vitalità al discorso e che quindi lo rende più aderente alla verità e si chiede quanto devono alla dickinson poeti come ungaretti e come montale parecchio tanto che montale è stato anche uno dei traduttori di emily dickinson perché emily va sempre al centro senza dispersioni senza ornamenti di troppo e le sue parole sono state definite concatenazioni di fatti dell'anima e a proposito di parole emily dickinson a un suo amico scrive a un suo amico degli anni dell'adolescenza che si chiama joseph ti ricordi l'idea che avevamo delle parole così c'è da poco senza energia ora non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere ne esistono alcune di fronte alle quali mi inchino stanno lì come un principe tra i lord a volte ne scrivo una e la guardo ne fisso la forma i contorni fino a quando comincia a splendere e non c'è zaffero al mondo che possa eguagliarne la luce ci sarebbe molto da riflettere su quanti tentativi di depotenziare la parola siano stati fatti nel corso dei secoli fino ad arrivare a quelli di oggi a quelli contemporanei che forse rischiano anche di avere più esito che nel passato complice una rivoluzione tecnologica che non è mai stata tanto veloce e invece le parole le parole scritte in particolare sono armi bianche sono frecce appuntite sono armi accecanti anche pericolose e quindi devono essere decantate pensate meditate lette e non è il caso che scorrano e spariscano in un attimo su uno schermo lette distrattamente e non ricordate perché in questo modo le parole diventano trucchi dopo la morte di emily fu la sorella la vinia abbattersi anche contro il fratello austin che non voleva pubblicare le sue poesie invece la vinia voleva che uscissero ma una volta che i presagi di emily sulla sua fama futura si concreti si stavano concretizzando e quindi si cominciarono davvero a verificarsi i potenziali eredi cominciarono ad accapigliarsi per illuminarsi alla luce di questa fama che emily stava acquistando postuma perché era successo era accaduto che la famiglia si era spezzata in due rami uno capitanato da marta dickinson che era la figlia del fratello di emily austin e della cognata susan e l'altro e l'altro ramo era capitanato da millicent todd che era figlia di austin e della sua amante mabel lumis todd ma fu mabel la prima curatrice della prima edizione delle poesie di emily dickinson che uscì nel 1890 a quattro anni dalla morte della dickinson e mabel aveva che era una donna colta aveva capito benissimo il genio di emily già dall'anno dopo infatti dall'anno dopo della pubblicazione di questa prima edizione del resto l'ottocento stava volgendo alla fine emily inizia a conquistare il pubblico inizia ad avere successo insomma ad essere curiosi di lei e le edizioni cominciano a uscire allora millicent la figlia di mabel prende il timone dell'opera dickinsoniana e marta dickinson non se lo aspettava e giù cause legali dichiarazioni di ogni genere dichiarazioni confuse contraddittorie fuorvianti tanto che la vita e le poesie di emily sono state a volte in una sorta di allone magico più che mistico o addirittura ancora peggio romantico addirittura inscrivendola in una corrente che non le è mai appartenuta perché anche lei esattamente come era successo alla bronte spazzava via invece tutte le romanticherie ottocentesche scrive gabriella sica in un libro che si titola emily e le altre lei è una donna che si è ritirata non per tracciare il suo rifiuto del mondo neanche per una vehemente protesta ma perché lei è sovranamente tranquilla una vera eretica e una corsara una combattente sul campo di battaglia che è quello della poesia oltre che della vita emily non era una pacifica signora dell'ottocento americano reclusa e isolata come si è voluta leggere nei decenni scorsi tanto meno un poeta d'amore ma è un raro soldato nella guerra della creazione e nella sfida tra i suoi signori e ritorno al concetto di sfida l'edizione completa e corretta delle poesie di emily dickinson è uscita solo nel 1955 e da quel momento davvero la fama di emily è diventata inarrestabile e alla fine a parlare di verità sono le sue lettere e le sue poesie anche le lettere sono state pubblicate interamente solo nel 1958 ogni volta che si leggono lettere e soprattutto le poesie se ne scoprono nuovi aspetti è come una sinfonia che muta come le varianti di un mito che sono molte ma sono una e non contraddicono mai la narrazione anche quanto sembra il suo amico joseph a cui lei aveva scritto delle parole in una lettera descrive gli occhi di emily e li descrive così occhi che non vedono forme ma penetrano all'istante nel cuore delle cose questa forse la descrizione più disinteressata è anche quella che probabilmente rende più giustizia a quello che emily dickinson è ed è stata una donna libera una donna coraggiosa emily dickinson proprio come emily bronte indomita e tenace è una ribelle una ribelle al conformismo al sentimentalismo al padre che riteneva fantasticherie le sue poesie alla tradizione patriarcale e maschile alle regole della poesia che era lei contemporanea e all'ortodossia religiosa e infatti scrive in una lettera non sai che no è la parola più selvaggia che affidiamo al linguaggio aveva uno sguardo che supera il reale forse quella doppia a qualcuno ha detto che aveva quella doppia vista fisica e metafisica di cui parla il leopardi nello zibaltone però per lei lo sguardo era uno era uno solo cioè non era quello che riesce a vedere l'invisibile dietro ma era quello quotidiano contemporaneamente emily morì il 15 maggio 1886 alle 5 del pomeriggio aveva scritto poiché non potevo fermarmi per la morte lei gentilmente si fermò per me il carro portava solo noi due e l'immortalità al funerale della dickinson c'era l'amico thomas higginson che era sempre rimasto al suo fianco e in contatto con lei proprio perché era affascinato da una donna come lei perché non rientrava nella visione così ordinata che lui aveva della vita e al funerale di emily higginson leggerà un'altra poesia sull'immortalità che è una poesia dell'altra emily della bronte che inizia così non è vile la mia anima non trema nella tempestosa notte del mondo e così proprio higginson che non aveva mai capito le poesie della dickinson unisce nel coraggio di vivere controvento e nella ferma resistenza a ogni tempesta unisce le due emily le vite delle due emily e poi dopo il funerale higginson sul suo diario scrisse la campagna era perfetta sull'origine la assoluta bella frontiscia e mi sembra bello chiudere con un'altra poesia l'ultima l'ultima che la dickinson ordinò nei suoi fascicoli la numero 1775 la terra ha molte note dove non c'è musica la penisola è sconosciuta bellezza è la realtà della natura ma a guardare la sua terra e a guardare il suo mare per me il brillo è la somma di tutta la poesia grazie grazie di essere venuti così tanti grazie sì sì Certo, soprattutto l'attaccamento alla… sì, grazie. Allora, anch'io l'amo molto e spero che si sia sentito, perché veramente per me è stato in tensione, insomma, parlare di Emily Dickinson. Volevo sapere se a questo punto qualcuno di voi ha qualche domanda o qualche intervento come la signora, in cui c'è il nostro Davide, con il microfono che ve lo può portare. Non siate timidi, alzate la mano. Eccola là. Eccola. Eh? Beh, sì, se siete tutti d'accordo, posso farlo. Allora. Vabbè, chi deve andare? Cioè, voglio dire, può andare. Vediamo se riesco. Vabbè, chi deve andare? 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 Grazie a tutti. Questa, che è quella, le trovo così, aspetta c'è una che ha sottolineato di più, vediamo, 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 chi non trova qua giù il paradiso non lo troverà in cielo, gli angeli stanno nella casa accanto alla nostra, dovunque ci rechiamo. Oppure, l'ultimo. Era sbattuto il piccolo veliero che sapevo, sorpreso dalle raffiche, su se stesso girava, brancolava in delirio, nell'attesa dell'alba. E scivolava, con passo ubriaco, e di suoi piedi bianchi poi sparvero alla vista. Buonanotte veliero, all'equipaccio e a te. È liscio e azzurro il cuore dell'oceano e non si spezza per te. Esatto. Esatto. E questa è la sfida sua, proprio di avere vissuto la vita che voleva lei, una vita migliore di quella che poteva probabilmente vivere fuori perché il mondo non era pronto per lei, e soprattutto avere avuto una lucidità mentale che sfido chiunque ad avere, chiusi in casa senza vedere mai nessuno e senza toccare nessuno. No, certo che no. Anzi, cercavano di tirarla fuori. La Elena Jackson le diceva, vieni, dobbiamo andare dall'editore, dobbiamo pubblicare, eccetera, eccetera. Ma lei sapeva che sarebbe arrivato tutto soltanto dopo. Allora, se non ci sono domande, e mi pare di no, io vi ringrazio davvero e vi do appuntamento per chi vorrà continuare a seguire la vita, la storia di queste scrittrici, al prossimo sabato, il 20 di novembre, sempre alle 17, qui, quando incontreremo Virginia Woolf. Grazie.